Soprattutto nei cani di grande taglia è possibile vedere la differenza rispetto ai soggetti adulti sono gli splendidi cuccioli dell'Esposizione Mondiale Canina 2015 Milano Italia Andiamo invece in Francia per trovare le origini del bulldog francese Grazie 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 Un'altra delle tre piccole molossi di Grigio 9 Questo è il topo Il paio di origine di questo grigio è China Grazie Grazie Grazie